Marabizzotto, la risposta della Lega Nord a questo nuovo governo Renzi, a questo Stato italiano è 1 e 2 marzo gazebo per la raccolta firme referendum indipendenza del Veneto. Sì, il messaggio che vogliamo lanciare a Renzi, come ha letto a chi l'ha preceduto, è che il Veneto è stanco. È stanco di pagare per uno Stato che non funziona, soprattutto in questo momento in cui i cittadini non ce la fanno attirare a fine mese, soprattutto in questo momento in cui le aziende stanno chiudendo. Ecco perché faremo questa gazebbata, perché la regione e qualche consigliere non leghista un po' spaventato approvi questo benedetto referendum, come sta succedendo in tutta Europa, in Catalonia e Scozia si faranno i referendum. La battaglia al Parlamento europeo è iniziata due anni fa proprio su questo tema. Noi vogliamo che i cittadini veneti si esprimano, il referendum è una battaglia di libertà e di civiltà e credo che nessuno potrà fermarlo. Siamo qua per questo.